Alleluia, meraviglioso Signore. Giovanni capitolo 17 Desidero prima di tutto fare una correzione perché da sempre, avevo letto anche in qualche commentario che la preghiera sacerdotale di Gesù era stata fatta nel giardino degli Getsemani però mi è venuto un po' un dubbio per il motivo per cui è stato scritto prima della storia del Getsemani qualcuno l'ha posto, Giovanni, alcuni pensano che Giovanni l'abbia posto prima per non interrompere tutto il discorso della sua passione invece, leggendolo, credo che bisogna metterlo al posto giusto questa è stata fatta, questa è l'ultima preghiera che il Signore ha fatto insieme ai Suoi discepoli mentre era ancora nell'alto solaio prima di andare nel Getsemani quindi sarà stato qualche ora prima leggiamo il capitolo 17, versetto 1 tuttavia rimane una preghiera potente una meravigliosa preghiera abbiamo letto, ne parlato dal versetto 1 fino al versetto 8 se non sbaglio e abbiamo parlato di come Gesù prima ha pregato riguardo il suo rapporto personale con il Padre poi prega per i Suoi discepoli e poi prega per coloro che avrebbero ubbidito il Vangelo attraverso i Suoi discepoli quindi oggi tratteremo la seconda parte la prima parte ovviamente dovrebbe essere così composta la nostra preghiera almeno la troviamo scritta qui nella preghiera sacerdotale di Gesù e sappiamo che noi siamo stati fatti re e anche sacerdoti giusto quindi abbiamo un modello una preghiera modello qui di Gesù che prima prega per se stesso poi del suo rapporto personale col Signore poi prega per la Chiesa e poi prega per il mondo che sarà raggiunto per mezzo della Chiesa ok andiamo a leggere il versetto 9 è come se aprisse un'altra parentesi io prego per loro non prego per il mondo guarda quanto è dettagliato Gesù quando prega dice io prego per loro in maniera specifica sto pregando per i miei discepoli sto pregando per coloro che mi seguono da vicino noi potremmo dire noi stiamo pregando per la Chiesa giusto possiamo dire che stiamo pregando per coloro che il Signore ci ha affidato possiamo pregare dovremmo pregare infatti la scrittura ci insegna pregate l'uno per l'altro ok e Gesù era molto chiaro nella sua preghiera dice io prego per loro non prego per il mondo non sto pregando per gli altri che poi verranno ma per coloro che tu mi hai dato ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi voi siete suoi ok è stato solo un affidamento i pastori hanno solo ricevuto un affidamento ma il greggio del Signore appartiene al Signore non ai pastori i pastori sono solo responsabili e tutte le cose mie sono due questo è Gesù che parla e dice e tutte le cose mie sono due e le cose tue sono mie quindi si vedeva uno con il padre dice io dice io sono glorificato in loro io sono glorificato Gesù è glorificato in mezzo alla Chiesa lui è la gloria della Chiesa il Cristo ok il versetto 11 dice ora io non sono più nel mondo ma essi sono nel mondo Gesù stava dicendo io già mi vedo io già ho finito la mia opera ho completato ma io io me ne devo andare però loro rimarranno cioè il Signore ha lasciato ha messo tutto nelle mani della Chiesa e la Chiesa adesso è responsabile di portare avanti quello che Gesù ha compiuto ok quando ha detto sulla croce è compiuto ci ha lasciato la sua grazia ci ha lasciato la sua testimonianza ci ha lasciato i quattro Vangeli ci ha lasciato la sua vita e ha detto adesso potete andare perché tutta l'autorità mi è stata data in cielo sulla terra e sotto la terra voi avete autorità su tutte le cose e ricordatevi come abbiamo detto la settimana scorsa che all'inizio del Salmo 24 cosa è scritto tutta la terra appartiene all'Eterno e tutto ciò che essa contiene è anche suo ok quindi noi viviamo in un mondo che non appartiene al mondo anche di noi è stato detto voi siete affittuari aveva detto al suo popolo quindi questo non è vostro ma io vi concedo questo mondo perché poi quando verrà Gesù voi sarete coeredi insieme a Lui di tutto quello che io ho procurato tutto quello che Lui ha procurato e ottenuto per mezzo di un suo sacrificio noi siamo uno in Cristo ricordiamocelo noi siamo uno in Cristo e la Chiesa deve fare esattamente quello che Cristo ha fatto mentre era qui sulla terra la sua missione è continuata da noi e Gesù ha pregato per noi affinché potessimo continuare il suo la sua missione noi siamo rappresentanti di Lui in questa città a Messina il Signore quanti noi ringraziamo Dio che ci ha messo a Messina quanti noi ringraziamo Dio che ci ha messo a Messina ci ritorneremo a questo alleluia e forse quando ci sono tanti di noi in particolare i giovani che avrebbero preferito un'altra città un'altra regione forse addirittura un'altra nazione io ho venuto d'America figlioli non mi parlate di altre nazioni sono stato in tante nazioni ma il miglior posto dove essere è dove Dio ti ha posto alleluia e dice così Gesù dice ora io non sono più nel mondo è come se Lui vedesse se stesso già andarsene dice ma essi sono nel mondo fratelli noi siamo nel mondo come abbiamo detto la settimana scorsa ma non siamo del mondo anche se viviamo in questo mondo ma non facciamocela alla larga pensando che noi siamo esenti dalla missione alla quale Lui ci ha chiamati tutti noi siamo responsabili di adempiere il grande mandato Gesù ha pagato il prezzo affinché noi potessimo andare e rappresentarlo e come è stato spesso detto dobbiamo fare da ambasciatori per Cristo dove in questo mondo dobbiamo fare la differenza non nella Chiesa qui nella Chiesa serviamo la Chiesa ma facciamo la differenza nel mondo immagina un momento e mi viene proprio questa questa immagine e vedo quanti di noi andremo a casa oggi è un bello piatto di pasta ci vuole vero e quindi siamo pronti ma immagina se per chi cucina ovviamente perché ci sono altri che aspettano dalla loro stanza ma comunque per quelli che stanno presso la cucina mettono la pentola accendono il fuoco e mentre l'acqua si riscalda cosa succede? si prende il sale e lo si mette accanto e lo si lascia accanto sperando che questo sale tutti insieme in qualche modo desse sapore all'acqua così succede e cosa succede? quindi il Signore che cosa fa? toglie il sale dalla Chiesa e lo mette nel mondo perché il mondo deve avere sapore ho detto l'altro giorno quando la Chiesa se ne andrà e il Signore porterà la Chiesa con sé e la Chiesa mancherà il mondo non avrà più sapore perché l'unico sapore l'ha provveduto il Signore attraverso i Suoi figli e per questo il Vangelo di Cristo è iniziato a Gerusalemme continua a Giudea e poi in Samaria e poi le parti più remote della Terra il Vangelo deve avanzare ma avanza attraverso i figlioli di Dio e siamo noi i figlioli di Dio quello è la Chiesa in generale non solo noi ma stiamo parlando della Chiesa in generale e quanti cristiani quanti credenti ci sono in questa meravigliosa città di Messina che dite immagina quanto sapore dovremmo dare a questa città no? Gesù dice loro sono nel mondo saranno nel mondo rimarranno nel mondo ma hanno una missione nel mondo non si possono defilare non si possono tirare indietro quanti noi siamo contenti che stiamo uscendo una volta al mese ok forse lo chiedo di nuovo quanti noi siamo contenti che stiamo usciremo questo sabato che viene giorno 17 ve lo annuncio ora poi lo metteremo sulla bacheca usciremo di nuovo per quale motivo stiamo uscendo non per fare Chiesa nella nostra parte non per prendere il sale e mettere il sale da parte ma il sale si sta preparando per dare sapore perché poi da aprile in poi usciremo fuori dalle quattro mura pregate da ora sin da ora che il tempo si riscaldi se no Alessia sente troppo fritto poi mi spuntano giacche, giaccone sciarpe, cappelli che siamo topolo nord alleluia ma noi siamo contenti siamo contenti perché ci sentiamo partecipi di qualcosa che il Signore sta facendo quanti noi ci sentiamo utili per il Signore quando usciamo quanti lo sentono non stiamo uscendo per fare qualcosa di diverso perché se fosse proprio così che siamo molto più contenti di rimanere tra quattro mura rimaniamo qua e tanto per dire apriamo le porte e facciamo finta che siamo fuori ma non è così se noi usciamo usciamo perché facciamo la differenza cioè prendiamo il sale da dentro il pacco e lo mettiamo dove? nell'acqua lo mettiamo nel mondo per fare la differenza dove? nel mondo la Chiesa per troppo tempo si è nascosta dal mondo per proteggere dobbiamo essere puri e santi tu non puoi essere di un iota più puro più santo di quanto ti può fare o ti può rendere Gesù tu sei santo perché lui è santo il Signore non ha scelto Filippo Cannavò per essere la vostra caparra ma ha scelto il Cristo con il suo sacrificio e poi ci ha dato il meraviglioso Spirito Santo che è dentro di noi e lui è diventato la caparra cioè la garanzia di una vita eterna dice tutto Gesù ha detto tutta l'autorità mi è stata data in cielo sulla terra sotto la terra adesso potete andare del continuo fratelli ripeto a me stesso noi non siamo nati per rimanere tra quattro mura non siamo nati lo dovremmo dire a noi stessi quanti di noi ci piace venire in chiesa se la domenica mattina è straordinaria quando noi adoriamo il Signore tutti insieme è meraviglioso quanti noi sentiamo la presenza di Dio ok io ringrazio il Signore per questi momenti ma noi vogliamo portare quel sapore fuori dalla chiesa cioè questa chiamiamo chiesa quando ce ne andiamo da questo luogo questo è solo un edificio quando ce ne andiamo ovunque noi andiamo la chiesa si sposta e noi vogliamo andare a Torre Faro per essere chiesa vogliamo andare a Gansiri per essere chiesa vogliamo andare in altri posti per essere chiesa perché il Signore ci ha mandati come sale per entrare nelle acque del mondo e dire ecco un nuovo sapore alleluia quindi Gesù dice ora continua a pregare dice ora io non sono più nel mondo ma essi sono nel mondo e io vengo a te Padre Santo dice io siccome sto me ne sto venendo a te ma lascio loro e li semino nel mondo perché loro dovranno continuare la mia missione e non vi lascio da orfani disse Gesù ma io vi darò il Consolatore Lui vi insegnerà delle mie vie tutto quello che ascolterà me e il Padre dire ve lo comunicherà per questo i doni sono stati rilasciati nella chiesa affinché il Signore potesse continuare a parlare e operare attraverso il suo popolo fratelli quando preghiamo una parentesi quando preghiamo preghiamo in maniera particolare che i doni dello Spirito Santo si possano manifestare nella chiesa quando la chiesa esce fuori noi vogliamo guarigione i lebrosi ci si ricorda la storia dei dieci lebrosi la scrittura dice che mentre andavano furono guariti uno tornò ma mentre andavano il Signore li guarisce io vedo questo nella comunità tanti di voi sarete guariti mentre andate alleluia signore io non posso andare da nessuna parte perché ancora non sono guarito comincia a camminare vedrai come il Signore guarirà il tuo corpo guarirà la tua anima perché adesso adesso stai entrando nella sua missione e il Signore si prende cura dei suoi amén e dice e io vengo a te Padre Santo conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato affinché siano uno come noi io voglio che tra di loro ascoltate questo è importantissimo che tra di loro siano uno come io e te Padre siamo uno non ti innervosisce questo non ti dovrebbe innervosire ma che cosa stiamo pensando noi stiamo pensando che la Chiesa può stare insieme fisicamente cioè un credente può stare con un altro credente ma è diverso quando si entra in una missione particolare non puoi avere noi c'è un raduno di corpi qui dentro per formare un corpo unico ma quando si esce per fare il volere di Dio fuori da queste quattro mura se non si è d'accordo in quello che si fa sta a casa il disaccordo il disaccordo nega a quelli accordati la benedizione del successo e il signore ci ha aperto anche una porta grazie a Dio attraverso queste uscite adesso possiamo anche iniziare una scuola biblica in zona nord tutto è possibile a chi crede e forse io più di tutti ci credo sapete perché anche Filippo la fila o meno se lui alza la mano dice perché ci crediamo ci crediamo perché già è radicato dentro il nostro sistema di credo non è qualcosa che mi devo autoconvincere adesso io so che so che so e vorrei che tu sapresti che sapresti che sapresti per quale motivo perché quando diventa radicato dentro il cuore del credente non ci sono più punti interrogativi ma come che cosa stiamo facendo si stiamo il Signore sta pregando per noi perché noi stiamo andando nel mondo sta pregando per tutti noi affinché noi non veniamo meno cosa vuol dire che non veniamo meno che non abbiamo ombra di dubbio in quello che facciamo siate uno nello spirito e Gesù qui sta pregando Signore e poi quando questi saranno pronti per uscire nel mondo ma che siano uno uno nel loro intento ma abbiamo capito che tipo di unione il padre e il figlio hanno l'ubbidienza che il figlio ha verso il padre e l'ubbidienza che noi dovremmo avere verso il Cristo nella sua missione nel suo mandato per essere convinti non a livello mentale ma a livello spirituale essere così radicati in questa verità che ci permette di vivere il nostro domani con la piena certezza abbiamo cantato la piena certezza io confido in Dio noi sappiamo in chi abbiamo creduto e siamo anche persuasi che l'opera che lui ha iniziato decenni fa in questa città sarà portata a compimento e adesso la Chiesa sta maturando in questa missione non stiamo facendo scuola biblica solo per per avere un foglio di carta ma scuola biblica la stiamo facendo perché vogliamo preparare tutti per uscire alcuni si sono già sentiti idonei di uscire Dio li benedica ma se la Chiesa non si muove come una squadra se non si muove guardi i dodici discepoli erano tutti coerenti nel messaggio di Gesù Cristo sapevano esattamente cosa diceva la parola di Dio vivevano la parola di Dio pregavano del continuo erano messi con la mano all'aratro in ubbidienza quale è stato il mandato di Gesù Cristo per loro e per la loro vita e quando ha detto a tutti andate nell'alto solaio e aspettate 500 sono andati verso l'alto solaio ma solo 120 hanno ricevuto lo Spirito Santo solo 120 sono stati unti da Dio per poi uscire nel mondo dove sono gli altri 380 spesso me l'avete sentito dire questo dove sono gli altri 380 hanno sentito il mandato con l'orecchio ma non l'hanno ricevuto nel cuore non ha cambiato nulla dentro di sé e facciamo ancora un altro poco di scuola biblica e facciamo un altro anno ma se ti cacciate e te ne esci a che vale fare la scuola biblica grazie per quella mente a che vale se Gesù ha pregato per noi ed è stato così importante da essere scritto nella parola di Dio per noi significa che c'è un proposito che il Signore sta mandando noi e lui dice lui prega dice ora io non sono più nel mondo ma essi sono nel mondo e io vengo a te Padre Santo conservali tu nel tuo nome quelli che tu mi hai dato affinché siano uno come noi mentre ero con loro nel mondo io li ho conservati nel tuo nome io ho costudito coloro che tu mi hai dato e nessuno di loro è perito tranne il figlio della perdizione affinché si adempisse la scrittura ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro infatti noi vogliamo avere gioia la più grande gioia che tu possa sperimentare è di vedere un sorriso e un Cristo pieno di gioia per la tua ubbidienza alleluia affinché la mia gioia giunga a compimento cioè compimento vuol dire che matura arriva a maturarsi nel cuore dei credenti quando io lavoro per l'opera del Signore non mi fa sentire bene tra virgolette come se io stessi facendo qualcosa per me io servo voi con un occhio verso Cristo perché voglio vedere la sua approvazione voglio vedere lui sorridere voglio essere voglio essere accompagnato dalla sua gioia e dentro di me quando sento che lui ha gioia in quello che noi stiamo facendo sento quella benedizione e ti dico e dico allora signore stiamo facendo ciò che è giusto e credo che anche gli anziani sentano la stessa cosa io desidero che la la gioia del Signore giunga a compimento in tutti i vostri cuori e che ogni volta che tu esci ogni qual volta che tu diventi quel sale per il mondo tutto ad un tratto senti la sua gioia senti il suo favore senti la sua grazia dentro di te ti senti accompagnato e sai e sai e senti dentro di te l'approvazione dello Spirito Santo io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati noi abbiamo ricevuto qualcosa di prezioso da parte del Signore e il mondo ci odia ascoltatemi bene perdonatemi e mi conoscete bene io non ho paura del mondo ho paura dei fratelli carnali perché chi ti fanno quella io non ho paura di quello che Satana potrebbe fare ci potrebbero essere manifestazioni di demoni si manifestino pure i cacciamo e andiamo avanti riflettiamoci un po' ma quelli che ci vedranno per strada già già fanno guerra cercano di fare terra bruciata per tutti noi ma noi non siamo stati chiamati da loro fratelli e nemmeno a loro dovremmo dare un resoconto noi continueremo ad amarli perché sono i nostri fratelli e se avremo l'occasione di servirli li serviremo pure continueremo ad amarli continueremo a servirli perché a noi un giorno non sarà l'altra parte della Chiesa che ci darà un premio ma sarà il Signore Gesù stesso a premiarci viviamo in ubbidienza camminiamo in ubbidienza a Lui tutto qua dice io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati ma questi erano veramente quando Gesù faceva riferimento al mondo includeva tutti tutti quelli della politica religiosa di quel giorno i farisei che li odiavano faceva riferimento a tutti quelli che ci facevano ascolta se il mondo fuori ha sede e tu spunti con delle brocche d'acqua non ti aprono le braccia perché ti aprono le braccia perché hanno sede se invece qualcuno che dice che ha acqua però sta morendo i siti gli porti dell'acqua non riconosce il tuo mandato nel portargli l'acqua e ti rigetta ti rifiuta ma io vi dico che anche di nascosto ci stanno ascoltando e di nascosto ci stanno seguendo e non sono i leader non sono i leader sono i membri della casa del Signore altrove che mandano messaggi che perché sto dicendo questo che sto dicendo per incoraggiare la Chiesa perché molto probabilmente voi stessi sentirete delle cose che non vorreste sentire nemmeno io vorrei sentire certe cose ma il Signore ha pregato per tutti noi ma il Signore non metterà vino nuovo in odri vecchi non lo farà e alcuni insistono che gli odri vecchi contano ma contano per il Signore ma il Signore si risparmia o si si apparta un residuo per portare avanti la sua opera e sa e riconosce vi ricordate anche Davide l'abbiamo parlato Davide ha sofferto la stessa cosa però che cosa succedeva la casa di Saul continuava a diminuire e diminuire e la casa di Davide cresceva e aumentava e cresceva e prosperava quelli che camminano in ubbidienza avranno prosperità quelli che camminano in ubbidienza al Signore in tutti gli aspetti del loro cammino quando diranno al Signore la mia vita è tua e ti appartiene tu vedrai come il Signore stesso benedirà la tua vita non so perché mi viene davanti questa questa storia era la sorella si chiamava Cristina era una sorella di Napoli stiamo parlando di un cento anni fa mio padre spesso parlava della sorella Cristina di Napoli non so se qualcuno si ricorda a zia Maria certo si ricorda noi che a zia era coetane però però si parlava spesso della sorella Cristina di Napoli e quando il Signore ha salvato questa donna il suo lavoro quotidiano era di uscire di casa la mattina e evangelizzare stiamo parlando dei giorni di Mussolini giorni pericolosi che la potevano anche far fuori se volevano però la sorella Cristina non gli interessava quello che pensavano gli altri la sorella Cristina partiva la mattina e un giorno mentre era fuori qualcuno la raggiunse per dire è morto tuo marito vieni presto è a casa ed è morto vieni e lei che cosa ha fatto non ho finito il mio lavoro ritornerò dopo e la sorella Cristina e il marito non era convertito anzi odiava il fatto che lei usciva ad andare a evangelizzare quando ritorna a casa sicuramente tanti della mia età e meno più giovani o più vecchi direi scusa si ricordano che quando moriva qualcuno li cambiavano li mettevano nel letto e poi mettevano le quattro candele ai quattro angoli del letto chi si ricorda questo stiamo comunque quando due tre ore dopo quando ritorna ritorna a casa e vede questa scena tutti che piangevano e vedeva suo marito l'ha disteso sul letto ha buttato tutti fuori ha detto fuori tutti preso quelle candele le ha messi fuori e ha detto nel nome di Gesù alzati lui si sveglia si alza il Signore lo risuscita e ci dice se tu non accetti Cristo la prossima volta che moro non te lo succede più alleluia questa è la meravigliosa sorella Cristina di Napoli un'altra volta non so perché un'altra volta l'ha fermata la polizia perché metteva degli opuscoli dei trattati sulle macchine li distribuiva e così via e quando hanno visto quello che le faceva l'hanno arrestata e l'hanno portata in questura come si chiama questura e appena l'hanno portata là ha detto dice lei gli hanno detto lei deve smettere di fare questo e quant'altro le hanno detto e dice io non mi difendo se prima non uscite tutti dai vostri uffici e venite qua e Nenzo ne voleva andare infatti l'avevano già rilasciata lei dice no io non vado in due parti io sto qua ovviamente ci si è in Napoletano e quindi la sorella rimase lì la sorella Cristina rimase lì e questi tutta ad un tratto dice figliolo se non venite questa non se ne va appena siete tutti qui presenti comincia a parlare di Gesù Cristo comincia a predicare di Gesù Cristo e nessuno batteva un ciglio l'ascoltavano dopo qualche ora gli hanno detto signora se ne può andare può continuare a fare no no non me ne vado adesso mi prendete e mi portate esattamente dove mi avete preso e voleva essere anche accompagnata la sorella Cristina vero sale vero sale non aveva paura né del mondo non aveva paura della morte aveva un'ossessione è quella di portare anime a Cristo giorno e notte viveva questa realtà questo portava gioia al cuore di Cristo alleluia e dice la scrittura io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati sai perché li ha odiati? perché non sono del mondo sai perché sei odiato? perché non sei del mondo perché non sono del mondo come neppure io sono del mondo perché? perché questi sono con me alleluia quanti noi siamo con Gesù gloria a Dio se siamo con Gesù il mondo ti odierà perché ha odiato lui io ho dato la tua parola scusate io non chiedo versetto 15 io non chiedo che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno cioè io non ti sto chiedendo e guarda che cosa ha fatto la chiesa si è richiusa dentro quattro mura e questo è il suo modo di preservarsi dal mondo no vuole preservarsi dalle cose mondane pensando che se rimaniamo chiusi dentro quattro mura ci sarà più santità no ci sarà più religiosità perché noi la religiosità sai dove la perdiamo quando siamo fuori ubbidendo al mandato di Cristo e Gesù disse io non sono del mondo e io non ti chiedo che tu li tolga guarda quanto è preciso Gesù nella sua preghiera stiamo dicendo stiamo insegnando signore insegnaci a pregare io non sono dice io non ti chiedo scusate io non ti chiedo che tu li tolga dal mondo cioè per favore non voglio che camminino accanto a un credente e quanti quanti credenti hanno fatto questo in maniera letterale in maniera letterale allontanati dal mondo non ti avvicinare al mondo ma io fratelli dico un sacco di sale messo accanto alla ventola l'acqua rimarrà senza sale e non avrà nessun sapore noi dobbiamo uscire dal sacco dobbiamo uscire da queste mura e dobbiamo addentrarci nel mondo penetrare il mondo che resiste l'opera della chiesa per quale motivo la resistono la resistono perché satano non vuole perdere nessuno dei suoi ma lui è pronto a perdere un sacco di anime ci vogliamo amende però e Gesù dice io non ti chiedo di toglierli dal mondo ti sto semplicemente chiedendo che tu li preservi dal maligno perché quando usciranno ascoltatemi quando usciranno saranno anche attaccati dal maligno se tu stai a casa non ti sconci se fai silenzio non ti sconci appena tu esci fuori dici oh che stai facendo qua ritorna da dove sei venuto ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro fratelli non diciamolo solo con la bocca ma con i fatti noi non siamo di quelli che si tirano indietro e noi andremo sempre avanti verso la missione è il compimento della missione dice ma ora ti chiedo che tu li tolga non chiedo che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno essi non sono del mondo come io non sono del mondo essi non sono del mondo noi siamo esattamente come Gesù se Gesù non è del mondo nemmeno noi siamo del mondo anche se Gesù viveva in questo mondo non era del mondo come noi viviamo in questo mondo adesso che apparteniamo a Gesù che siamo in lui viviamo in questo mondo ma non siamo di questo mondo quando usciremo quando usciamo non stiamo uscendo perché diciamo siamo uno con loro stiamo dicendo noi siamo il sale che si sta avvicinando sempre di più alla pentola perché vogliamo che questo sale entri in quella pentola e dia un nuovo sapore al mondo intorno a noi essi non sono del mondo come io non sono del mondo santificali nella tua verità la tua parola è verità santificali cioè appartali che siano appartati nella tua verità cioè che abbiano un sistema di credo coerente con il cielo cioè che siamo uno con quello che Dio pensa che siamo ascolta quante volte e questo lo sento spesso quante volte noi diciamo al Signore preservaci dal male perché l'abbiamo l'abbiamo anche detto letto nella preghiera di Gesù quando ci ha insegnato a pregare Signore preservaci dal maligno abbiamo detto dal male è come se noi non volessimo intaccare ma se non camminiamo secondo i principi di Dio secondo la verità facilmente saremo saremo ingannati a seguire il volere del male cioè il volere del maligno che è il male ci siamo se vuoi se vuoi non avvicinarti al male non vuoi essere intaccato dal male cosa devi fare rimani nella parola la tua parola è verità quando vuoi non ci saranno dubbi punti interrogativi nella tua vita quando tu leggi la parola di Dio quando guardi e ti addentri nella parola di Dio vedrai che tutto della scrittura è coerente con la missione del cielo sto per chiudere come tu hai mandato me nel mondo così anch'io ho mandato loro nel mondo il padre ha detto ok è tempo che tu scenda figlio mio e che tu sia seminato nel mondo per fare la differenza e il Gesù ha detto come il padre nella stessa maniera come il padre ha mandato me ha seminato me in questo mondo così io semino voi in questo mondo quale differenza c'è nella missione nessuna è la stessa missione solo continuata sapete che di tutti i libri nel nuovo testamento non è scritto mai amen cioè è scritto amen a tutti ma non è scritto amen negli atti degli apostoli sapete perché perché continua ancora noi siamo la continuazione del libro degli atti e un giorno in tutti quegli quei libri sarà anche scritta la nostra storia dice la persona accanto sei importante e Gesù ha detto ascolta come tu hai mandato me nel mondo così anch'io ho mandato loro nel mondo è la stessa missione e per loro dice Gesù e per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità io cioè mi apparto perché voglio che anche loro siano appartati per questa tua missione e quella di raggiungere il mondo quanti noi ci sentiamo appartati per questa missione no 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 aspetta non mi avete capito quanti noi ci sentiamo appartati per la missione di Gesù Cristo non per il centro addestramento cristiano di Messina bla 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 ma stufai pure tutto questo ma vogliamo essere appartati perché ci sono anime che ogni giorno vanno all'inferno e la chiesa non fa niente è tempo di destarci perché la missione che sta davanti a noi è straordinaria e le cose che il Signore ha promesso chiudo con con questo non so perché mi viene davanti ora credo che il Signore voglia che la racconti giovedì mattina presto ho fatto un sogno e in questo sogno vedevo come eravamo in una casa era una casa bianca tutto un piano e adiacente a questa casa era in costruzione un'altra casa e tutta ad un tratto vedo vedo dalla collina adiacente a questa casa che scendeva una grande fiumana come se fosse una fiumana di un fiume che strarrivava ma era tutta acqua sporca era acqua sporca e io ho pensato se rimaniamo ci chiudiamo in casa moriremo dobbiamo uscire e quando dissi dobbiamo uscire davanti a me c'era una bambina che poteva avere tre anni e ho detto forse non avevo nessuna paura ma ho detto a questa bambina forse devi camminare un po' più veloce devi camminare più veloce e la bambina cominciò a camminare più veloce poi mi vedi uscire da questa casa dove eravamo e vedi una donna una donna che era per terra e aveva le mani messi proprio dietro la nuca che si copriva la testa e il collo si copriva la testa e il collo perché c'era come un ippopotamo che voleva mangiarsela tutta ad un tratto arriva un leone però questo leone era grigio questo leone grigio va si mette tutta la testa sapete come come il leone prende la sua preda la prende dalla testa e se la porta e nella stessa maniera ho detto se mi avvicino io mi è molto probabile che sbrana pure a mia però da dove ero ho detto solo Gesù e questo qua abbandona la sua preda molla la preda e se ne va e mi sono svegliato io credo che in tutto questo è rappresentata la scuola biblica quelli del terzo livello in particolare dove stiamo insegnando la battaglia spirituale e dove dove il maligno vuole attaccare Satana che cosa farà quando noi facciamo le cose che piacciono a Dio si scaraventa contro la chiesa perché la vuole bloccare la casa la casa bianca tutto in ordine ma c'era un'altra casa in costruzione quella è la nuova missione ma nulla è stato intaccato grazie a Dio tutto è rimasto al suo posto Satana è un bugiardo e che cosa vuole fare? vuole vuole prendersi la mente dei cristiani dei credenti della sposa di Cristo della donna la donna sta cercando di difendersi fratelli quando dico come state non mi dire mi stai difendendo perché poi mi viene in mente quel leone no no invece di dire mi sto difendendo dice io non sto bene ma grazie a Dio Dio mi aprirà una strada e da questa situazione ne uscirò dobbiamo avere fede ok il maligno non si accontenta di lasciarci fare quello che abbiamo deciso di fare non sarà contento in questo ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro alziamoci in piedi il Signore disse in maniera molto molto chiara dice è per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità non per finta ma in verità dobbiamo essere santificati che cosa significa essere appartati dobbiamo essere appartati per la missione del Signore alleluia qualcuno potrebbe dire ma che cosa posso fare io c'è qualcosa che tu puoi fare prega chiedi al Signore e il Signore te lo mostrerà alleluia padre meraviglioso grazie per la tua parola Gesù tu hai pregato per noi hai pregato per la tua Chiesa e noi siamo concentrati in questo tuo volere in questa tua missione per questi ultimi giorni la Chiesa non rimarrà rinchiusa dentro quattro mura ma la Chiesa uscirà per portare frutto ed avanzare il regno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo Signore ci santifichiamo noi stessi appartiamo noi stessi nella tua verità cioè mettiamo la tua parola al centro della nostra vita e dichiariamo Signore di ubbidirla che noi la ubbidiremo Signore faremo ciò che la tua parola ci comanda affinché si possa dire del maligno ecco viene il principe di questo mondo ma non ha nulla in me esattamente come ha detto Gesù noi ti ringraziamo Padre perché siamo stati chiamati e grazie Signore perché usciremo e porteremo frutto per il nome glorioso del Figlio di Dio che noi amiamo e adoriamo per i secoli dei secoli e il popolo di Dio dice Amen andate in pace grazie